Ma quanto vale Bitcoin? Esiste un modo per comprendere se l'asset più picco del mondo è sopravvalutato o sottovalutato? Questo è l'andamento di Bitcoin negli ultimi anni, dal 2012, è una continua fase di risalite con dei cicli ribassisti abbastanza pronunciati, risalite, risalite, cicli ribassisti e dove stiamo andando in questo momento? Esiste un modo di comprendere questo valore di Bitcoin? Quali sono i modelli che si possono utilizzare? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video strafico perché andiamo a cercare di comprendere se effettivamente possono esserci dei dati di natura oggettiva che possono indicarci un po' una valorizzazione di Bitcoin, un'idea generale di quanto può valere l'asset cripto più importante e quindi facciamo un po' di cosette, facciamo un po' di... sproloqui, un po' di gossip, un po' di idee generali. Intanto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatevi i pollicioni che mi aiutate con YouTube, ragazzi, e noi andiamo subito a ragionare su una cosetta. Perché Bitcoin è molto difficile da valutare? Allora, Bitcoin, ragazzi, è un asset di natura tecnologica, ma è anche un asset che si può paragonare a una sorta di moneta circolata. Quindi è un asset ibrido, non ne abbiamo mai avuti nella storia così, ragazzi, e vi faccio un esempio. Se riguardiamo le epoche antiche, ragazzi, abbiamo l'oro come asset finanziario che può essere utilizzato come riserva di valore, ma anche come moneta di scambio, ma è difficile nella sua trasportabilità perché è difficile trasportarvi lingotti d'oro. Le monete non vengono più coniate utilizzando proprio l'oro e quindi, in sostanza, non ha un altro utilizzo, se non in termini tecnologici come conduttore di energia elettrica, un ottimo conduttore elettrico, però sostanzialmente, ovviamente, non è utilizzato per nient'altro. Quindi Bitcoin è invece un asset che ha un po' di tante cose messe insieme, risponde un po' a quello che effettivamente poteva essere il concetto della riserva di valore con il gold. Abbiamo visto che al momento ancora non abbiamo un'idea generale di questa cosa, però sembra che un po' la risposta alla conservazione del valore l'abbia data, anche se in maniera estremamente volatile. Poi, però, Bitcoin è anche una moneta circolante digitale, quindi ha estrema velocità di transazione, non è veloce ovviamente come altre criptovalute e soprattutto magari non scambia in maniera così istantanea come magari possono avvenire anche i sistemi di divisa, insomma quelli attuali sulla moneta fiat, però è certo che transitare valori di capitali enormi con Bitcoin è veramente velocissimo, molto più veloce rispetto, diciamo, ad altri sistemi. E poi Bitcoin è anche una blockchain, quindi anche un asset di natura tecnologica che sottostante a una struttura totalmente innovativa che lascia spazio alla creazione di magari altre possibilità, di dargli altre possibilità. Abbiamo visto che qualcosina si sta muovendo, può essere che magari non venga utilizzata per motivi ideologici alla blockchain di Bitcoin per fare altro, per garantirgli la sicurezza, eccetera, però in linea di massima potrebbe essere utilizzata anche per altro. Quindi Bitcoin è un po' tutte queste cose messe insieme, rappresenta un sistema di scambio, rappresenta un bene rifugio, rappresenta una possibilità tecnologica, evoluzione e quindi anche l'utilizzo tecnico di questa, della sua blockchain potrebbe avere un valore nel futuro. Non esiste un bene in questo modo e nel passato, a meno che ricordi io, ragazzi, non c'è mai stato. Questo cosa significa? Che se noi dovessimo andare a valutare effettivamente quello che potrebbe essere il valore reale di Bitcoin, quindi quanto Bitcoin potrebbe valere in termini tecnici rispetto ad un altro asset e quanto, diciamo, potrebbe valere rispetto anche a se stesso, diventa difficile fare questo calcolo perché non abbiamo un dato di natura economica. Non è un'azione, una stocks che si può fare, un'analisi degli utili, degli earnings, attualizzandoli, previsioni future del movimento di mercato, eccetera, ma comunque ci sono numeri, ragazzi, o il budget, diciamo, dato dall'azienda, diciamo, dai amministratori dell'azienda, il bilancio, eccetera. In questo caso non esiste nulla di tutto ciò. Non ci sono dei dati, in effetti, per fare un'analisi di natura fondamentale su Bitcoin, ma neanche sulle criptovalute in generale. E poi c'è anche un'altra questione, la tecnologia, cioè questa incertezza tecnologica. E sì, ragazzi, perché? Perché Bitcoin, non avendo noi stessi, diciamo, non possiamo avere idee chiare su come possa essere utilizzato un domani questo tipo di tecnologia, perché non abbiamo neanche idea di dove può arrivare. Potrebbe essere inutilizzato, potrebbe avere un utilizzo spasmodico. Questo è tipico di tutti gli asset che sono tecnologie, cioè soprattutto innovative. Quindi tutte le tecnologie innovative hanno questa caratteristica. Perciò la valutazione di una tecnologia innovativa, fortemente disruption come Bitcoin, è difficile per chiunque, anche se ci fossero dati di natura fondamentale. Quindi, in sostanza, la difficoltà della valutazione di Bitcoin, di cercare di comprendere quale possa essere il valore del re delle criptovalute, dipende proprio da queste caratteristiche. Ma possiamo fare un'altra cosa, cioè possiamo andare a cercare un valore di Bitcoin che è il valore che il mondo, tra virgolette, tutti quanti noi, gli abbiamo dato nel corso della sua attuale esistenza, alle attuali condizioni e alle attuali informazioni presenti in questo determinato momento. E facendo, in sostanza, un raffronto rispetto a quelle che sono le caratteristiche tipiche. Ho scovato questo articolo che volevo farvi vedere, nel quale, diciamo, manca una cosa che a me interessava tanto, insomma, e che vi dico e aggiungo anche a questo articolo. Comunque ha un sistema di valutazione, indica quattro sistemi di valutazione per quanto riguarda Bitcoin che sono usciti fuori dalla CFA Institute, ragazzi, che comunque è un istituto di analisi, insomma, di ricerca abbastanza importante, diciamo, su questi tipi di materie. Allora, io analizzerei con voi questo paper e poi aggiungiamo, invece, una variabile sulla quale io stesso ho più volte riflettuto di valutazione, appunto, di Bitcoin, sulla quale un po', anche per esempio nel 2018, mi ero 2017, la bolla finale del 2017, mi ero basato un po' su quello. E quindi quello lo aggiungiamo. Allora, partiamo dalla prima riflessione che possiamo leggere all'interno del paper, che è quella più semplice. Allora, comparare Bitcoin alle sue naturali alternative. Allora, le naturali alternative di Bitcoin, noi l'abbiamo detto, l'ho detto subito all'inizio, sono intanto l'oro, ragazzi, se consideriamo una parte di Bitcoin come un bene rifugio e poi abbiamo un'altra alternativa, che è la moneta, cioè la circolazione della moneta. Poi, nell'esempio specifico, fanno anche, insomma, presente, insomma, la questione di Bitcoin, paragonandola alla debito globale, al valore globale del real estate, eccetera. Secondo me queste due valutazioni, queste due comparazioni non hanno motivo di esistere perché non vedo un collegamento tra il valore di Bitcoin e la real estate, ragazzi. Ovviamente sono fatti per scrivere l'articolo, ci sta, ma no, perché portano a pricing veramente importanti e qui, diciamo, fa sorridere un po' questa cosa. Allora, iniziamo a ragionare sulla questione del gold, andando a comprendere, insomma, il suo rivale per eccellenza. Allora, se noi andiamo a valutare il gold, in generale ci sono circa 11 trilioni di capitalizzazione. Questo significa, in sostanza, che all'attuale capitalizzazione di Bitcoin, ragazzi, attualmente circa 800, quasi un trilione, 832 mila dollari, in pratica l'oro vale quasi un po' di più di 12 volte, 11-12 volte Bitcoin. Ciò significa, in termini pratici, che, almeno da questo articolo, che comunque i dati sono più o meno aggiornati, se Bitcoin dovesse andare a pareggiare la capitalizzazione del gold, il suo pricing attuale dovrebbe essere 590 mila dollari. Vi faccio uno zoom più importante, così da farvi comprendere dove è indicato il prezzo. Eccolo qui, ragazzi, 590 mila dollari. Allora, il concetto che Bitcoin possa arrivare ad avere la stessa identica capitalizzazione del gold ci può stare, perché parliamo comunque di un asset che è molto simile da certi punti di vista, però poi all'interno dell'articolo dicono anche, se dovesse arrivare ad avere una capitalizzazione come quella del dollaro, del gold, essendo anche una moneta di suo e quindi utilizzabile per gli scambi, perché dovrebbe fermarsi lì? A quel punto si avvicinerebbe all'altro suo competitor, cioè il dollaro, cioè il competitor teoricamente di Bitcoin, che è in pratica una moneta transabile digitalmente, insomma, eccetera. Quindi all'interno di questo tipo di paper fanno questa valutazione e dicono si potrebbe avvicinare alla massa monetaria M1. Ora vi faccio capire che cos'è la massa monetaria M1. Eccola qui, ragazzi, l'M1 money stock. L'M1, in sostanza, è tutto il, insomma, denaro, il dollaro circolante e a questo si aggiungono anche tutti i depositi sui conti correnti, gli assegni circolanti, i crediti, insomma, eccetera. Quindi è un valore che è di 18 trilioni in questo momento. Tra le altre cose volevo anche farvi vedere come è vero, seppur è vero, che c'è stato un'impennata enorme anche, vedete, dalla questione della pandemia, boom, un balzo veramente gigantesco dovuto alla questione pandemica, però è anche vero che siamo entrando in una fase di congestione e l'ultima volta che ha fatto una cosa del genere la massa monetaria M1 è durata parecchio questa congestione. Quindi questo ci dà anche un'informazione sul punto, vedete, di uscita da qui che sono circa quattro anni. In pratica, teoricamente, ci dice che da qui in poi dovranno passare almeno altri quattro anni prima di ritornare ad avere una M1 crescente da questo punto di vista. Fermo, restando questo concetto, all'interno di valutazione, della valutazione di questo paper, dice se Bitcoin dovesse pareggiare la quantità di moneta M1 circolante più i depositi, eccetera, dovrebbe valere 2 milioni, 2.500 milioni di dollari a Bitcoin. Allora, anche qui ragazzi, poi più avanti non ci vado neanche, secondo me siamo nella follia totale perché tutto è possibile, ce lo auguriamo, ci mancherebbe, però teoricamente la questione è molto semplice. Andare a ragionare come Bitcoin possa essere in sostanza sostituito totalmente alla moneta non soltanto circolante ma addirittura anche ai depositi, eccetera, mi sembra una cosa che ha poco senso perché anche che fosse utilizzato in termini di grande utilizzo come moneta di scambio, comunque coesisterebbe con la moneta Fiat al momento e se dovessero in effetti avvenire una cosa del genere sarebbe un cambio proprio, insomma, totale, cioè la moneta Fiat non lo useremmo più. Questo è ovviamente quello del dollaro, se poi andiamo ad aggiungere anche quella degli altri paesi non vi dico i prezzi senza senso, che andiamo ad ottenere. Quindi secondo me ragazzi, tra queste due previsioni, valutazione di Bitcoin, utilizzare questo modello è corretto, però bisogna fare alcune cose. Bisogna andare a considerare non se Bitcoin raggiunge queste capitalizzazioni, ma se Bitcoin raggiunge una percentuale di queste capitalizzazioni, che secondo me ha più senso ragionare così. Per esempio potremmo dire Bitcoin potrebbe andare a raggiungere metà del valore del dollaro, quindi il 40-50% di valorizzazione rispetto al gold, scusate, non al dollaro. E questo potrebbe aver senso, perché è un asset di bene rifugio, ma è anche un asset molto tecnologico, quindi perché no potrebbe, non dico pareggiare il dollaro, ma il gold però potrebbe anche avvicinarsi e quindi valere metà del gold, almeno in una prima fase. E poi si vedrà che comunque sono valutazioni importanti, ma già qui vi pone un po' la pulce nell'orecchio perché vi dice, se Bitcoin arriva a valere metà dell'oro, varrà circa 280 mila dollari. E questo è abbastanza significativo, cioè sul fatto che previsioni di pricing, ragazzi, che vanno al di là di queste cifre, sono un po' senza senso, almeno nell'immediato, cioè da qui ai prossimi 4-5 anni. È possibile, tutto è possibile, ce lo auguriamo, trend is my friend, quindi ci mancherebbe ragazzi, non è che venderò mai prima di un cambio trend, però teoricamente, se noi andiamo a fare questi ragionamenti, usciamo un po' nel film sci-fi, cioè un po' fantascienza, perché da qui ai prossimi 2-3 anni che Bitcoin vada ad eguagliare il valore del gold, dell'oro, non ha un senso di natura macroeconomica, dovrebbe succedere qualche catastrofe, qualcosa di particolare e comunque il gold aumenterebbe in ogni caso perché è un bene rifugio, sono migliaia di anni che si usa, insomma, quindi capite bene il concetto che c'è dietro, ma un 20%, un 30% del valore del gold potrebbe essere corretto. Non ne parliamo proprio per quanto riguarda la previsione legata sulla massa M1 che in questo caso, ragazzi, ve la faccio rivedere, sono 18 trillion, anche in questo caso, per esempio, potremmo ragionare esclusivamente, per esempio, di percentuale e dire Bitcoin potrebbe valere il 10% della massa M1, in questo caso raddoppiare gli attuali livelli perché più o meno vale 800-900 miliardi, se andiamo a ragionare in termini di migliaia dobbiamo raggiungere circa 2000 miliardi, quindi dovremmo più o meno raddoppiare da questi livelli, significerebbe Bitcoin a 90 mila dollari. Anche questo è una previsione che può avere senso perché il 10% della massa M1 circolante ci potrebbe stare, ecco, non è una cosa fuori dal mondo, però capite bene anche che avrebbe un prezzo notevole, ragazzi, oltre ad essere l'asset che sarebbe in pratica come vicino Apple, cioè uno dei asset più quotati sopra le azioni, però ovviamente ancora lontano dal gold eccetera, quindi questo ci potrebbe stare. Io dico che è meglio ragionare su queste alternative, poi ovviamente da lì a dire no, varrà il 20%, si può anche ragionare in termini di queste percentuali, a quel punto avremo prezzi da 180, però capite bene, le unità di misure non sono ovviamente il milione del 500, cioè stiamo parlando di unità di misure normali e logiche e queste possono essere secondo me accettabili da un punto di vista di previsionale. Non mi, diciamo, non perdo tempo nel distinguere, nel comunicare queste 16 milioni, 15 milioni di dollari ovviamente. Non ha senso. L'altro modo di valutare Bitcoin che prende e piede su questo articolo è quello della Bitcoin Production Cost, cioè il costo di produzione di Bitcoin che in pratica con l'energia elettrica aumenta sempre più, anche perché c'è la questione legata alla difficoltà di mining di Bitcoin che aumenta costantemente, l'energia elettrica aumenta costantemente, quindi il prezzo di Bitcoin si livella all'interno di un canale ascendente che è creato da queste due, da questi due costi, quello dell'energia elettrica e quello del mining di Bitcoin che si muovono di pari passo. Tra le altre cose qui abbiamo un inizio di un modello che secondo me è interessante andare anche a valutare, vi spiego anche una cosa molto interessante che secondo me si può ragionare in questo momento. Allora, intanto, in tutti i bear market Bitcoin raggiunge l'electrical cost e la production cost, cioè si mette in mezzo a questi due livelli. Considerate che qui è la pandemia, teoricamente se non ci fosse stata la questione Covid probabilmente non ci sarebbe mai più rientrato in quel modo, anche qui nel suo bear market ha fatto la stessa identica cosa. Dopodiché più aumentano i costi energetici e più aumenta il costo di produzione di Bitcoin, più tendenzialmente Bitcoin tende a salire di prezzo. Uno, ovvio perché se aumentano i costi energetici aumenta l'inflazione, quindi teoricamente gli asset che sono reali, come Bitcoin reali tra virgolette, aumentano di prezzo, un po' anche le azioni fanno così e l'altro anche per una questione legata al fatto che Bitcoin utilizza proprio l'elettricità. C'è da vedere però una cosa anche qui, la distanza dei picchi precedenti. La distanza dei picchi precedenti rispetto a questi qui ragazzi, tra le altre cose guardate anche qui come si livellò con il costo di produzione che andò ad abbassarsi anche quello energetico e poi la sua seconda fase. Allora tutti questi picchi sono inferiori al precedente, quindi è da aspettarci, c'è da aspettare. Guardate anche la grandezza di queste due sticelle, vedete sono più piccole, questa è più piccola di quella precedente e questo significa che un eventuale prossimo picco sarà probabilmente più piccolo di questo qui precedente, quindi più piccolo di questo. Perché? Perché con il passare del tempo e il fatto che Bitcoin diventa più grosso, meno volatile, più efficiente, la distanza dell'eccesso rialzista di Bitcoin dai suoi costi di produzione e il costo di energia elettrica diminuirà e questo è corretto. Questo è un altro modo di ragionare che ci dà un altro tassello, un'altra informazione che ci dice che probabilmente assistere a un'impennata come questa di eccesso rispetto al prezzo di produzione di Bitcoin al prezzo elettrico sarà difficile. È probabile che Bitcoin segua la naturale fase ascendente del costo dell'energia elettrica e della produzione perché, vi ripeto, c'è anche una questione legata al fatto che Bitcoin nel costo di produzione aumenta sempre perché la difficoltà di Bitcoin aumenta e poi c'è anche la questione dell'albing e tutto il resto, quindi se ne producono di meno e quant'altro. E quindi in sostanza si vanno ad avere questi pump rialzisti che però probabilmente saranno minori dei precedenti, quindi anche qui la valutazione si può utilizzare per esempio questo metodo che secondo me è interessante e si può utilizzare che quando siamo a una distanza da questo livello qui, per esempio in questo momento preciso dove siamo in questa fase circa, ora dovremmo essere un po' più alti in questa zona qui, un eccesso potrebbe essere intorno ai 50-60 già indicato come quelli precedenti e anche questo è significativo ragazzi di prezzi differenti. Poi c'è la questione del dollaro, cioè l'incremento della base monetaria sia o no, ma questo l'abbiamo già affrontato, adesso vi dico appunto la mia perché è su questo che secondo me si basa un po' più la questione della valutazione di Bitcoin. Il quarto modello è legato agli holder, cioè quanto long term Bitcoin holder in percentuale ci sono. È il modello che preferisco di meno perché semplicemente c'è un tipo di ragionamento che non considera l'atteggiamento degli holder di Bitcoin che può variare nel corso del tempo, essendo comunque non un dato oggettivo l'atteggiamento degli holder di Bitcoin ma un dato di natura soggettiva dipende appunto da quello che fanno gli holder, ragionare dando una valutazione in base a questo dato è quello che mi piace di meno di tutti. Comunque vi lascio questo link così vi leggete insomma il proprio di CPA Institute e parliamo invece del sistema di valutazione che prediligo che è quello appunto di una valutazione in base alla questione della liquidità, cioè di quanti dollari sono circolanti. Questa relazione tra Bitcoin e dollaro l'abbiamo già vista ed ha un certo suo perché. E in effetti un pochettino ragazzi, la valutazione di Bitcoin potrebbe essere fortemente dipendente anche dalla quantità di dollari. Per un concetto semplice, Bitcoin viene prezzato in dollari, quindi più aumento la quantità di dollari più chiaramente deve aumentare il prezzo di Bitcoin per mantenere lo stesso livello reale precedente. Questo è un concetto classico che magari molti di voi già sanno, legato appunto al valore nominale, al valore reale di un asset. Perciò se io aumento e svaluto il sottostante che mi dà il prezzo al mio bene, il mio bene deve valere di più in termini del bene sottovalutato, quindi è svalutato. Quindi se io uso il dollaro, in questo caso è svaluto il dollaro e Bitcoin deve valere di più in termini di dollaro perché altrimenti non è guaglia il valore precedente. E questo è il classico concetto dell'inflazione eccetera. Però c'è anche un'altra questione, cioè quella che vi accennavo prima e ve la ribadisco. Il valore di Bitcoin può essere fatto dipendere da quanti dollari sono presenti a livello di circolante nel mondo e di crediti anche li userei. Perché ragazzi questa questione qui? Perché in sostanza Bitcoin potrebbe avere una valorizzazione con un competitor che è secondo me il più vicino di tutti. Oltre al gold c'è il dollaro che è un competitor di Bitcoin e potrebbe avere una valorizzazione in percentuale della quantità di dollari presente e quindi mantenersi anche stabile rispetto a questa quantità di dollari. Più aumentano quindi in questo caso i dollari presenti, più teoricamente potrebbe avere diciamo valore Bitcoin. Questa è la money supply, la M0 che come vedete ha 5.6 trillion in questo caso, molto più bassa della M1 perché la M1 ha i depositi, gli assegni, insomma eccetera. Ma qui ragazzi si vedono anche tante cose. Questa è il reale movimento della massa monetaria circolante, cioè non sono crediti e debili ma è appunto quanto denaro esiste proprio che gira l'M0 insomma. Anche in questo caso l'atteggiamento per esempio di Bitcoin potrebbe essere stato vicino. Qui siamo al massimo della M0 ragazzi ed è novembre dicembre 2021. In sostanza è il top di Bitcoin. Praticamente è un indicatore perfetto. Qui se siamo in passato siamo nel 2014 mentre qui in questa zona precisa questa parte qua. Faccio uno zoom più grande per farvelo capire. Ok questa parte qui siamo a dicembre 2017. Questo bear market nel 2018 e questo bear market sono identici su Bitcoin. Uguali ragazzi ma proprio uguali. Stesso periodo stesso lato temporale e questo ha una sua logica cioè meno dollaro circolava più Bitcoin si svalutava. Questo perché evidentemente Bitcoin è rimasto stabile come valore in termini reali. In realtà no perché è sceso molto di più rispetto alla svalutazione dell'M0 per esempio perché vi faccio vedere anche questa cosa qui. Per esempio qui l'M0 si riduce di un 18% Bitcoin crollò del 84%. Qui M0 si riduce più o meno del 17-18% qui Bitcoin crolla del 70-75%. Quindi questo per l'effetto ovviamente volatilità estremamente importante. Però se io dovessi dare un senso di dipendenza lo darei ovviamente dall'M0 quindi dalla quantità di dollari. Perciò potremmo dare una valutazione a Bitcoin facendolo dipendere da questo dato che noi sappiamo avere una certa correlazione con Bitcoin stesso. E quindi in sostanza facendolo dipendere da quanti dollari sono immessi nel sistema. Se andiamo quindi a ragionare in questo caso e abbiamo più o meno 5,60 ipotizzando diciamo Bitcoin sia intorno agli 8,90 considerando la full diluted market cap eccetera. Il linea di massima in questo momento sta quotando circa il 15% della M0 ragazzi. Ok? Ma allora facciamo anche un altro giochino ragazzi. Allora così facendo significa che Bitcoin non aumenta di valore per se stesso, per il fatto che è una tecnologia, per il fatto che viene adottato. No, non è così. Perché se infatti andiamo dietro nel tempo e andiamo a ragionare sull'ultimo picco intorno a dicembre 2017 abbiamo in pratica più o meno Bitcoin valeva intorno ai 400 mili miliardi in quella fase là e la M0 era intorno ai più o meno 3 e 9 e in pratica se io vado a fare un calcolo così alla buona perché se non mi ricordo i numeri precisi mi esce fuori che Bitcoin valeva il 10% della M0 nel 2018 ragazzi. Come vedete a livello percentuale il differenziale non è così importante cioè noi stiamo parlando di una percentuale della M0 dei dollari. Poi ci sono delle considerazioni che dovremmo fare ma il video viene troppo lungo però in sostanza significa che se io dovesse andare a valutare Bitcoin nel prossimo immediato futuro potrei dire che in questa nuova burranna è salito al 15% più o meno dell'attuale prezzo è il 15% dell'M0. Qui era intorno al 10%. Se noi dovessimo andare a salire potremmo aumentarlo e magari arrivare intorno al 20% di questa M0. Anche perché non è strano in quanto ragazzi nel picco massimo di Bitcoin, Bitcoin valeva il 20% circa dell'M0. Quindi cosa vi sto dicendo qui? Che in sostanza Bitcoin aumenta in base al movimento dei dollari circolanti ma aumenta anche di suo perché ha un adoption maggiore, ha una maggiore diciamo sviluppo da un punto di vista tecnologico ed adozione a livello mondiale e questo fa sti che mangia quote di mercato all'M0. In sostanza siamo passati dal 10% che era in questa zona al 20% che era in questa zona. Ora vale il 15% perché abbiamo visto il bear market. Se dovessimo risalire e dovessimo avere una M0 che torna a salire per esempio in questa zona potremmo avere una quotazione magari di Bitcoin intorno al 25% dell'M0 che se noi ipotizziamo sia intorno ai 7 trillion con una nuova zona di massimo senza andare diciamo troppo più in là giusto per e facendo un calcolo alla buona ci escono fuori circa 2000 miliardi di capitalizzazione per Bitcoin che ha gli attuali insomma valori di circa 19 mila e 4 dovrebbero essere circa più o meno intorno diciamo ai 19 milioni e qualcosa dovremmo essere adesso l'ho preso in questo momento quindi 19 milioni e 5 poi salirà un po' la presenza insomma ragazzi 90 mila 87 90 mila dollari questo se andiamo a in pratica ragionare in termini del M0 e di legando diciamo Bitcoin all'M0 questo ovviamente se questa struttura torna a salire altrimenti o torna a salire la M0 quindi la questione dei dollari oppure Bitcoin deve aumentare quote di mercato proprio sulla M0 ce la fa e già in questo modo noi abbiamo due strutture di pump su Bitcoin cioè una legata proprio all'andamento dalla quantità di dollari una legata a Bitcoin solo quindi proprio la sua struttura che prende quote di mercato quindi non solo pareggia rispetto al passato ma raddoppia quote di mercato o un po' di meno il 50% insomma io in questo caso perché sono prudenziale ma in sostanza il calcolo si potrebbe fare così questo è un modello che ha un senso logico perché abbiamo visto che Bitcoin è legato ai dollari circolanti abbiamo visto anche l'interdipendenza tra i picchi della M0 e quello che è l'andamento di Bitcoin dei bear market abbiamo insomma notato questa cosa sì è vero quindi fare diciamo tutti i riferimenti legati al gold eccetera ma dovremmo anche considerare questo parametro che secondo me è molto più attendibile molto più prudenziale è molto più semplice da ragionare e voi cosa ne pensate video abnorme video super lungo video importantissimo mi piace e pollicione in su ciao ragazzi